Quando giocavo a Pola, dopo la Svezia, avevo due e tre club che mi seguivano, che venivano a vedermi. Erano il Chievo, la Sampdoria e squadre così. Sfortunatamente non è stato possibile venire in Italia. Sono andato in Russia e alla fine sono arrivato qui e sono molto contento di essere qua.